In contro al Quirinale tra il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni, il colloquio definito molto positivo e costruttivo, ha avuto al centro PNRR, codice degli appalti migranti ucraina, chiusa ieri sera la campagna elettorale per eleggere il governatore e il consiglio regionale del Friuli, si vota domani e lunedì polemiche per le parole del Presidente del Senato la Russa sull'attentato di via Rasella. Papa Francesco sta meglio e sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma dopo la bronchite infettiva per tornare alla sua residenza di Santa Marta, prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme, ha affermato il Vaticano, Bergoglio affiancato da un cardinale dovrebbe presenziare a tutti i riti della settimana santa. Foto segnaletiche e rilevazione delle impronte digitali ma niente manette, nessuna ammissione di colpevolezza per Donald Trump quando martedì pomeriggio si costituirà al Tribunale di Manhattan per la formalizzazione delle accuse nel caso della porno star Stormy Daniels, a suo carico almeno 30 capi di imputazione, si mobilitano i repubblicani. E dopo la sosta per gli impegni della Nazionale torna la Serie A con tre anticipi per la 28esima giornata. Ad aprile il sabato di campionato la sfida tra Cremonese e Atalanta nel pomeriggio interfiorentina, mentre in serata ci sarà Juventus-Verona. Tennis, splendida vittoria a Miami per Yannick Sinner che ha battuto in semifinale lo spagnolo numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. 7 e 29 minuti, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. In primo piano abbiamo la politica con l'incontro lungo e cordiale tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che l'ha ricevuta al Quirinale. Tra i temi affrontati il PNRR, il Codice per gli Appalti, ma anche la questione migranti. Questioni che da giorni, lo sapete, animano il confronto politico. Confronto politico che vedrà domani e lunedì confrontarsi anche le forze politiche con le elezioni amministrative in Friuli-Venezia-Giulia. Ma facciamo il punto nel servizio di apertura. Lungo e cordiale. È stato definito così da Palazzo Chigi l'incontro avvenuto tra il Presidente Mattarella e Giorgia Meloni. Un incontro, si fa sapere, previsto, in cui sono stati affrontati tutti i dossier più urgenti del momento, a cominciare dal nuovo Codice degli Appalti e del PNRR, ma anche dell'emergenza migranti e del nuovo decreto bollette. Inevitabilmente un vero e proprio bilancio di questi primi mesi di governo. Protrattosi, oltre l'immaginato, in una giornata in cui la Presidente del Consiglio si è fatta sentire con i suoi appunti, in occasione in cui ha respinto prima di tutto le critiche delle opposizioni al nuovo Codice degli Appalti. Senza far cenno né prima né dopo, alle aperture del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, sul PNRR. Sui fondi, subito un tavolo con tutti. Il movimento ci sarà, aveva scritto in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. La Presidente del Consiglio ha dovuto rinunciare al viaggio in Friuli-Venezia-Giulia, dove era attesa per chiudere la campagna elettorale per le regionali di domenica e lunedì, dove il centrodestra si presenta unito a sostegno del Presidente uscente e, tranne clamorose sorprese, anche rientrante Massimiliano Fedriga. Una scadenza arrivata quasi a fari spenti all'ombra dei tormenti del PNRR, che presenta semmai interessi altrove. Se la Lega saprà rimontare il forte distacco patito da Fratelli d'Italia alle politiche le 25 settembre scorso, per esempio, o se sarà un buon battesimo per l'alleanza tra Movimento 5 Stelle di Conte e un PD, confluiti tutte e due su Moretuzzo, un'alleanza che per la prima volta si presenta alle urne a guida Elislein. Un'alleanza che anche stavolta si ritroverà in una regione che di confini e di autonomia se ne intende, un candidato Alessandro Maran, sostenuto in autonomia da Azione e Italia Viva. Opposizioni divise in Friuli, ma unite invece nel segno dell'antifascismo, unite appunto contro il Presidente del Senato. La Russia, che aveva detto di Arasella, è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, tanto più perché quelli uccisi erano una banda musicale di semi pensionati e non viechi nazisti delle SS. Parole arrivate a ruota di quelle pronunciate a Bruxelles dalla Meloni nei giorni scorsi che aveva parlato non di antifascisti ma di italiani. La bufera, come si dice in questi casi, è stata immediata. Valgano per tutte le opposizioni le parole di Boccia, un esempio di revisionismo storico che sposa il punto di vista dei fascisti. Migliorano le condizioni di salute di Papa Francesco, che ha trascorso la sua terza notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ci sono novità proprio anche per quanto riguarda le celebrazioni dei riti pasquali. Noi lo chiediamo a Simone Costa, che si trova per noi proprio davanti al Policlinico Gemelli di Roma. A te Simone, buongiorno. Sì, buongiorno Fabio. Le novità sono che Papa Francesco, come hai ricordato, uscirà questa mattina dall'ospedale Gemelli di Roma, l'ospedale in cui era arrivato in ambulanza mercoledì scorso per una bronchite infettiva curata con antibiotici. Cure che evidentemente hanno dato un buon effetto, visto che, come detto, stamattina uscirà Papa Bergoglio e presenzierà, questo ha fatto sapere la sala stampa vaticana, tutti i riti della settimana santa, della settimana di Pasqua, riti che si apriranno domenica con la messa della Domenica delle Palme, che verrà tenuta, verrà ufficiata dal vice decano del Collegio Cardinalizzo, il connazionale di Bergoglio, il Cardinale Sandri, ma Bergoglio ci sarà e ci sarà, come detto, a tutti gli altri riti della settimana santa, che si chiuderanno poi con la benedizione Urbi e Torbi da Piazza San Pietro. Queste le notizie per quanto riguarda lo stato di salute di Bergoglio sulla sua guarigione, ovviamente hanno pesato le cure, ma anche la volontà del Papa, che alcune indiscrezioni volevano già in uscita nella giornata di ieri, poi è stato deciso di uscire oggi e di ritornare a Santa Marta, il giorno che precede, appunto, la Domenica delle Palme. C'erano state voci allarmanti sullo stato di salute del Pontefice, voci sempre allontanate e smentite dalla Santa Sede, che ieri ha diffuso anche un video di Papa Francesco, che si è recato in visita al reparto pediatrico oncologico, qui dell'ospedale Gemelli di Roma, ha portato in dono rosari, libri e uova di cioccolata per i bambini, poi addirittura ha battezzato un neonato di nome Miguel Angel, quindi è attesa per questa mattina l'uscita di Bergoglio. Ovviamente siamo qui, se ci fossero aggiornamenti potrebbe essere a minuti, è più probabile però nella tarda mattinata, se ci fossero aggiornamenti ovviamente vi richiederemo la linea. Bene, grazie Simone, certamente se dovesse uscire il Pontefice nei prossimi minuti chiaramente chiedici pure la linea. E allora, noi adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, perché? Perché Donald Trump dovrà presentarsi martedì prossimo in tribunale per ascoltare i capi di imputazione e anche e soprattutto per sbrigare, come dire, tutte le formalità del caso a proposito della sua incriminazione per aver pagato la porno Star Stormy Danes. Vediamo il servizio. Martedì prossimo, nel primo pomeriggio, Donald Trump si presenterà spontaneamente in procura a Manhattan per evitare l'arresto davanti alle telecamere. Gli verranno prese le impronte digitali, saranno fatte le foto segnaletiche, poi l'ex presidente si dichiarerà non colpevole della corruzione di una porno diva con cui aveva avuto una relazione. Non patteggerà e subito dopo il collegio dei suoi legali presenterà una mozione che chiede l'archiviazione del caso che lo ha portato in tribunale. Trump potrà comunque impugnare le accuse a lui rivolte e sfruttare tutte le tutele consentite dal sistema penale dello Stato di New York. A puntare il dito contro l'ex inquilino della Casa Bianca ci sarà il procuratore Alvin Bragg, che Trump accusa apertamente da mesi di aver istruito un processo politico pagato con i soldi di George Soros, finanziere e filantropo di origine ungherese da sempre vicino. Ai democratici americani l'esercito dei legali avrà comunque da lavorare per l'intero weekend. L'incriminazione arrivata nella giornata di venerdì ha spiazzato infatti Trump, anche se la partita appare aperta nell'attesa di conoscere tutti i 30 capi di imputazione. Infatti nessuno oltre oceano sa in realtà come andrà a finire. Paradossalmente, nonostante l'incriminazione della procura di Manhattan, Trump potrà continuare la sua corsa elettorale mirata a riprendere la guida del paese ed essere rieletto. I repubblicani o almeno una parte larga sono sul piede di guerra all'attacco mediatico del procuratore Bragg. Trump per adesso osserva la situazione dal rifugio di Mar-a-Lago in Florida dove non si vedono più capannelli di suoi sostenitori invadere le strade. Ora si sposteranno a Manhattan, dove la polizia si sta organizzando per prevenire eventuali complicazioni. Trump dunque in queste ore senza supporter, ma con la famiglia schierata al suo fianco che accusa la procura di una persecuzione definita da Terzo Mondo. E adesso parliamo di Ucraina perché il presidente bielorusso Lukashenko, alleato forte di Putin, ha chiesto di fermarsi prima che inizi una escalation. Questa proposta però è stata subito respinta dal Cremlino che anzi ha ribadito la guerra va avanti. Intanto ieri il presidente ucranio Zelensky ha voluto ricordare e commemorare le fosse comuni di Buccia. Vediamo il servizio. Washington annuncerà lunedì un nuovo pacchetto di aiuti militari da 2,6 miliardi di dollari all'Ucraina. Dovrebbe includere radar di sorveglianza aerea, missili anticarre e munizioni soprattutto per i carri armati. La decisione di Biden arriva in un momento in cui le relazioni con Mosca sono davvero ai minimi storici. Dopo l'arresto del giornalista del Wall Street Journal accusato dai servizi russi di spiare un complesso militare a Decaterinburg. Arresto che viene considerato inaccettabile dalla Casa Bianca. Difficile parlare di pace se queste sono le premesse. Ieri ci ha provato persino il presidente bielorusso Lukashenko che ha evocato il pericolo di una guerra nucleare e proposto una tregua immediata in Ucraina con il congelamento delle posizioni dei due eserciti e l'avvio di negoziati senza precondizioni. Proposta subito rifiutata da Kiev perché in questo modo verrebbero ratificate le conquiste fatte dalla Russia. Ma è secco anche il no del Cremlino che si limita a ribadire che per la Russia non cambia niente l'operazione militare speciale va avanti. Anzi, Putin ha dettato le nuove linee strategiche della sua politica estera attaccando l'Occidente che sta portando avanti una guerra ibrida che rappresenta un pericolo esistenziale per la Russia che si difenderà con ogni mezzo a disposizione. Mosca tra l'altro da oggi assume la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Resta la speranza che qualcosa possa ottenere la Cina. Ieri a Pechino è andato lo spagnolo Sanchez che ha incoraggiato Xi Jinping a parlare direttamente anche con Zelensky che attende da giorni un contatto il leader cinese tra quelli che esitano a sostenere l'Ucraina. Noi continuiamo a inviare segnali e siamo disponibili a un incontro ha spiegato ieri il presidente ucraino impegnato a ricordare le vittime dei russi a Buccia ad un anno dalla scoperta del massacro dei civili. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'Ucraina sono almeno tre i morti nei bombardamenti tre civili sono morti nei bombardamenti russi sono stati pensati 54 nelle ultime 24 ore in particolare nella regione di Kherson ma ci sono anche decine di feriti. E adesso noi ci spostiamo in Norvegia perché un gruppo di cinque italiani provenienti dalla zona del Vicentino è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute ieri nel nord della Norvegia uno di loro è morto mentre altri due sono rimasti feriti uno gravemente mentre gli altri sono illesi il decesso dell'italiano è stato confermato dalla Farnesina il gruppo si trova sul picco Cavringtinden una montagna di quasi 1300 metri di altezza meta degli escursionisti. E adesso parliamo di intelligenza artificiale perché l'Italia ha bloccato la chat GPT i timori sono che la piattaforma abbia costruito un enorme database che non offra soprattutto garanzie di riservatezza sulle informazioni personali e raccolte il garante della privacy ha detto che potenzialmente sono molto pericolosi allora vediamo Dopo lo stop del garante OpenAI ha sospeso l'accesso al servizio chat GPT in Italia il software di intelligenza artificiale che sta sollevando in tutto il mondo interesse ma anche molti interrogativi da oggi l'applicazione nel nostro paese non è più raggiungibile la società americana fa sapere di lavorare per ridurre i dati personali nella formazione dei sistemi affinché la nostra intelligenza artificiale impari a conoscere il mondo non i privati ed è infatti questo il motivo che ha portato il garante della privacy a bloccare la piattaforma in grado di comporre testi secondo le nostre istruzioni e conversare attraverso tecniche di apprendimento automatico l'autorità ha aperto un'istruttoria contestando la raccolta illecita dei dati degli utenti italiani finché non sarà rispettata la normativa sulla privacy il garante punta il dito contro la mancanza di un'informativa agli utenti e l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi si legge nel comunicato al funzionamento della piattaforma il garante vuole anche proteggere i più giovani rilevando come nonostante la piattaforma sia vietata ai minori di 13 anni ma anche un filtro per verificare l'età degli utenti la vulnerabilità della chat GPT è emersa lo scorso 20 marzo quando per un problema tecnico è stata mostrata la cronologia delle domande degli utenti con i loro dati e dettagli sui metodi di pagamento usato per abbonarsi alla versione superiore della piattaforma adesso la società con sede a San Francisco in California ha 20 giorni di tempo per comunicare le misure adottate altrimenti rischia una multa fino a 20 milioni di euro pochi giorni fa Elon Musk tra i fondatori proprio di OpenAI e altri mille tra ricercatori e manager avevano proposto una pausa di sei mesi nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati per fermare quella che definiscono una pericolosa corsa agli armamenti e allora nel prossimo servizio vi raccontiamo vi facciamo vedere questa storia è una truffa contro anziani il bottino è davvero cospicuo perché la vittima è una ereditiera di una nota famiglia vediamo chi quando l'uomo ripreso dalle telecamere interne a uno stabile in zona San Babila a Milano con un trolley dentro c'è una fortuna lingotti d'oro gioielli e contanti un bottino da un milione e 600 mila euro la truffa ai danni dell'86enne Vittoria Caproni ereditiera della storica famiglia di imprenditori a Ronaldici Lombardi è stata appena messa a segno dopo due mesi di indagini gli agenti della squadra mobile di Milano nell'inchiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco hanno ricostruito le modalità del raggiro tre arresti si cerca una quarta persona erano le 10.30 del 10 gennaio e la signora era sola in casa un piano studiato nei minimi particolari la truffa simile a molte altre danni di anziani un finto avvocato l'avvisava che suo figlio era stato coinvolto in un incidente aveva investito una donna e che la famiglia della persona investita era molto arrabbiata per evitare l'arresto servivano 12.700 euro in contanti l'anziana aveva spiegato che in quel momento aveva disponibili i contanti per 3.500 euro il sedicente avvocato le dice che dopo pochi minuti sarebbe arrivato qualcuno a ritirare il denaro arrivano in due uno resta fuori a fare il palo l'altro entra e svaliggia quattro cassaforti la signora Caproni riesce con fatica a mettersi in contatto col figlio che risponde sta benissimo ma è troppo tardi per fermare il raggiro il trolley è già sparito 15 minuti dopo i due ladri sono in stazione centrale 3 ore e 20 minuti dopo scendono a Roma secondo gli inquirenti incontrano altri due complici napoletani il trolley viene affidata a una 22enne incensurata insospettabile e arriva a Napoli dove sono residenti i componenti della banda specializzata in truffe in trasferta durante le perquisizioni in casa di uno dagli indagati sono stati ritrovati 2.000 euro in confezioni di pannolini del resto del bottino al momento nessuna traccia la pagina partiamo con il tennis con l'ottima notizia per i nostri colori del successo di Yannick Sinner sul numero 1 al mondo Carlos Alcaraz nelle semifinali del torneo Masters 1000 di Miami l'azzurro ha sconfitto Alcaraz con il punteggio di 6-7 7-4 al tie-break per lo spagnolo 6-4-6-2 in oltre tre ore di gioco proprio Alcaraz solo un paio di settimane fa aveva battuto Sinner nelle semifinali di Indian Wells ora il 21enne altoatesino numero 11 al mondo sfiderà domani per il titolo il russo Miedvedev e adesso il calcio il 28esimo turno della Serie A oggi il programma prede tre anticipi sono Cremonese Atalanta Inter Fiorentina Juventus Merona mentre domani ci sarà il big match Napoli-Milan vediamo senza l'infortunio di Cialanoglu Simone Inzaghi avrebbe sicuramente apprezzato la sosta per le nazionali arrivata subito dopo le sconfitte con Spezia e Juventus che hanno fatto scivolare l'Inter al terzo posto la soddisfazione per i quattro gol di Lukaku con il Belgio non ha invece bilanciato il fastidio per il K.O. muscolare del centrocampista turco fuori per le prossime cinque partite è sostituito da Brozovic pronto a tornare in cabina di regia fin dalla gara casalinga di oggi alle 18 contro la Fiorentina una gara che per la corsa Champions l'Inter non può assolutamente sbagliare sebbene all'appello mancheranno pure Skriniar Di Marco e lo squalificato D'Ambrosio assenze compensate in parte dai recuperi di Bastoni e Gosens l'allenatore Nerazzurro vuole maggiore efficacia offensiva e si affiderà di nuovo alla coppia Lukaku Lautaro Martinez scelta per fare male ai Viola reduci da sette vittorie di fila Europa compresa nel sabato di campionato aperto alle 15 da Cremonese Atalanta impegno interno anche per la Juventus vogliamo confermarci secondi sul campo le parole di Allegri alla vigilia della sfida delle 20 e 45 con il Verona Chiesa non sarà convocato mentre Di Maria partirà dalla panchina slitta ancora il rientro di Pogba sul quale non si sbilancia neppure il tecnico bianconero che per la squalifica di Rabiot e Paredes a centro campo potrebbe dare fiducia al giovane argentino Barrenecea tra domani e lunedì il resto del 28esimo turno con il big match Napoli-Milan al Maradona non ci sarà Ossimen il bomber nigeriano si è fermato per una lesione all'adduttore sinistro lo staff medico dei partenopei è già al lavoro per metterlo a disposizione di Spalletti per il doppio confronto nei quarti di Champions sempre contro i rossoneri e a proposito di coppe Roma-Faie Nord di Europa League sarà vietata ai tifosi olandesi a breve la decisione del Viminale per il timore di disordini già visti nel recente passato sono le 7.48 minuti noi ci fermiamo qui con le notizie del telegiornale rimanete con noi perché torna Paolo Sottocorona con le presioni del tempo poi c'è Flavia Fratello che conduce il dibattito e poi come sempre Andrea Pancani che conduce Coffee Break a tutti voi una buona giornata grazie